Per i romani la flotta è molto importante, ci permette di attraversare fiumi o stretti disponendo alle barche uno accanto all'altro comando un ponte. Oppure con navi da trasporto ci permette di spostare merci, approvvigionamenti, esercizi più velocemente che via terra. Infine le nostre navi da guerra sono convidabili in battaglia navale. Nonostante ciò, la marina non gode dello stesso prestigio delle legioni urmane, probabilmente perché è un'arte che ci è stata insegnata da altre popolazioni come i cappaginesi, i greci e gli egizi. La nave più comune è la trireme, chiamata così per le tre figlie di rematori. In battaglia si utilizzano solo i remi perché permettono di acquistare maggiore velocità rispetto alle vele e una maggiore manovrabilità. Le quadre di reme, le pipirene e le lagurne sono delle altre navi che utilizziamo. Queste ultime hanno come modello le navi dei pirati ancora più leggere e più manovrabili delle trireme.